Una dietro l'altra, Ozzano, due di Sanguinetti e una di Prandin, Ozzano parziale aperto di 9 a 0. Adesso attenzione, Scintille, Scintille tra Musso e Sanguinetti o addirittura tra Sanguinetti e un suo compagno di squadra, Casella. Qui però ci sta il fallo tecnico tutta la vita per Sanguinetti che ha fatto una scenata pazzesca. Credo ce l'abbia con Musso e stia dicendo che l'argentino gli ha dato una gumitata. Poi il suo compagno Casella si è messo in mezzo, ad un momento in cui le prende anche lui. Voglia saltare al collo anche il suo compagno di squadra, quasi Sanguinetti. Vediamo che decisione prendono adesso i due.